Siamo qui, finalmente Sì, in quello al mondo, vabbè, perché ci siamo persi nel gruppo La gente Cosa vuoi insinuare? Sì, sì, sì Maledetto Siamo qui, aspetta che la fotocamera... Ci vedo? No, non mi vedo Sono strabica con la cosa che... Tu non fai niente per aiutarmi Dovrei fare, se era puntito di me non si vede per te, no? Cioè, mi sembra ovvio Non si vede come un tubo Non vi attaccare i torti tipo le pistole delle FBI